Quanto veloce devi essere per poter fare 30 gol a campionato in Premier League, in Serie A o in Bundesliga? Ciao, sono Nicola Strubini, sono uno strength and conditioning coach e sono specializzato nell'aumento della performance sportiva. Oggi andiamo proprio a vedere il tema velocità e numero di gol a campionato. È chiaro, il nome del video è volutamente provocatorio, però voglio andare a vedere assieme a voi un'infografica stupenda che ha creato il team di speedworks.training che si occupa di preparazione atletica, di strength and conditioning e ha fatto questo brillante post proprio poche ore fa sulla loro pagina Instagram che vi invito ad andare a tenere d'occhio. Che cosa ci dice questa infografica? Beh, mette in relazione quello che è il numero di gol effettuati in un anno dai giocatori più veloci delle rispettive squadre. O meglio, chi sono i calciatori più veloci e quanti gol hanno fatto e quanta è la velocità massima che riescono a raggiungere. Logicamente faccio questo perché io parlo molto ma molto spesso di quanto conti la performance fisica, l'esplosività, la rapidità di movimento, il salto verticale, l'accelerazione, anche in uno sport prevalentemente aerobico come viene reputato, come quello del calcio. Se è vero che nel calcio uno sport che richiede qualità tecniche esagerate e qualità tattiche di non poco conto è altrettanto vero che non possiamo non capire quanto sia rilevante l'aspetto fisico in questi sport. Appunto, il salto verticale, ricordiamoci i gol di Cristiano Ronaldo di testa e non solo in certe partite, ricordiamoci di quanto è rilevante l'accelerazione, pensiamo alla velocità che raggiunge Mbappé quando punta l'avversario. È chiaro, uno deve essere primariamente un calciatore dal tasso tecnico molto elevato per poter far 30 gol a campionato e questo è ovvio, logico ed evidente. Ma al tempo stesso possiamo dire che anche le doti fisiche, oltre che quelle tecniche, rivestono un ruolo veramente importante. E adesso andiamo a vedere assieme. Partiamo da Robert Lewandowski, quest'anno ha fatto 51 gol, velocità massima raggiunta dal calciatore dei 33.8 km orari, che è una velocità veramente notevole se pensiamo che si parla di essere più veloci di Cristiano Ronaldo, che non è certo l'ultimo arrivato in termini di velocità. Seconda in tutta la squadra, cioè lui è il secondo calciatore più veloce dell'intera squadra. Onestamente non mi viene in mente chi potrebbe essere il primo, se qualcuno magari lo sa, lascialo scritto nei commenti. Poi passiamo a un altro signor calciatore, signor attaccante. Tra l'altro guardiamo bene la distinzione tra questi calciatori perché noteremo anche che non rivestono lo stesso ruolo e anche questo è molto interessante. Lewandowski, ad esempio, è una punta centrale che sì, si muove molto e si muove molto rapidamente, ma è una vera e propria punta centrale. Cristiano Ronaldo invece è un esterno alto di sinistra e quest'anno ha fatto 35 gol. E notiamo bene che alla Juventus, nonostante i 34 anni, è il calciatore più veloce in assoluto, nonostante il signor Quadrado alle spalle. Tim Werner, 34.97 km orari, qua cominciamo ad essere sul territorio Usain Bolt, 34 gol in campionato quest'anno, il più veloce della sua squadra in assoluto. Passiamo poi evidentemente al velocista per eccellenza del calcio mondiale, che è Mbappé, che ha raggiunto i 36 km orari con 30 gol segnati. Anche lui il più veloce della sua squadra. Sterling, 34.97 km orari, numero di gol 30, è il secondo più veloce in assoluto della sua squadra. A Bumayang, 35.5 km orari riesce a farli e ha fatto 29 gol. Poi non è riuscito a recuperare questo dato il team di Speedworks.training, perché sono dati comunque che sono andati a recuperare loro in autonomia e in maniera indipendente. Non hanno trovato la velocità massima, ma sicuramente Ciri Mobile è un calciatore estremamente rapido e veloce e ha fatto quest'anno la cifra folle di 39 gol. E poi infine Messi, che quest'anno ha fatto 30 gol e 32.5 km orari, sono la velocità massima raggiunta. Quindi cosa possiamo dedurre da tutto questo? Che devi diventare un velocista per diventare un calciatore? No, Usain Bolt ci ha provato, no? Le doti fisiche, la velocità massima raggiungibile da un calciatore, è estremamente rilevante. Non significa che se tu superi 34 km orari farai 30 gol al campionato, ma significa che probabilmente superare i 30 km orari, o magari andare ancora più vicino ai top di questa classifica, se arriverai ai 35 km orari, a parità di tecnica, ovviamente, a parità di tecnica, avrai un enorme vantaggio sui tuoi avversari o sui tuoi competitor o sui difensori avversari, che poi notoriamente i difensori centrali queste velocità non le raggiungono, no? Non dimentichiamoci mai che per quanto sia uno sport tecnico il calcio, così come poi diversi altri sport come il basket, come il tennis, sono tutti sport che richiedono una tecnica incredibile, una tattica altrettanto importante, che hanno un ruolo di rilievo notevole, ma è altrettanto vero che la velocità massima e, ancor più, la capacità di accelerazione, perché queste sono le velocità massime, ma se andiamo a vedere probabilmente la classifica di accelerazione sui primi 10 metri, scommetto che i nomi al 90% sarebbero gli stessi. Cristiano Ronaldo, Mbappé, Messi, sono persone, sono atletiche sui 10 metri, sullo scatto, sull'accelerazione breve, sono probabilmente ancora meglio che in progressione. Quindi la velocità massima e l'accelerazione sono due qualità fisiche estremamente importanti che, se sei un calciatore, in particolar modo magari se sei un attaccante, devi necessariamente ricercare. Io ti invito a guardare magari tutti i miei video su queste tematiche, sul mio sito trovi anche la scheda Sprints and Jumps for Sport, che mira proprio a farti aumentare la velocità, così come la scheda Strength for Sports Calcio mira a farti diventare un atleta più completo e più forte, diventare anche molto più veloce, molto più rapido sul breve e a saltare più in alto. Nel calcio tutto questo è fondamentale. Io spero che questo breve video ti sia piaciuto, se così è ti invito a lasciare un like, dire la tua, lasciami il tuo parere e il tuo commento personale e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale. Allenatevi!